Squillino le trombe e rullino i tamburi Ho letto 50 sfumature di nero Oh mio Dio O come direbbe la mia gemmina Mother of God Questo romanzo raggiunge livelli di epicness Di epicità Ma neanche il signore degli anelli Con la battaglia finale raggiungeva Cioè in confronto, ho capito Anakin che si trasforma in Darth Fener E' come guardare che non so Una puntata di Beautiful per dire Veramente qui L'autrice ha toccato delle vette Che cioè Ma neanche le fanfiction delle bimbe minchia Di 15 anni raggiungono Non voglio offendere tutte le 15 anni Perché ci sono delle 15 anni che Non sono bimbe minchia e non leggono Libretti del cazzo che vengono pubblicati Periodicamente per loro O leggono young adult Un pochino più seri di quelli Che escono mediamente Perché ci sono degli young adult Di una certa intelligenza e levatura Vero Bietolina? Vogliamo parlare di quella Meravigliosità di saga Che è L'academia dei vampiri Torniamo al nostro libro Ehm... Libro? Ma non è un libro Io sono veramente dispiaciutissima Per gli alberi Che hanno dovuto abbattere Pubblicare questa merda infame Dunque Riassunto della puntata precedente 50 sfumature di grigio Questo romanzo Ispirato a fanfiction No Ispirato a Twilight Vedete Non riesco neanche Ad esprimermi Perché fa talmente schifo Che mi sto abbassando Al livello 50 sfumature di grigio Era una fanfiction Di Twilight Che è diventata un romanzo Ma fondamentalmente I personaggi Sono rimasti uguali A quelli di Twilight L'autrice Perché non le bastava A sfracassarci i coglioni Con quel libro E basta Ha deciso di scriverne Altre due Aggiungendo fondamentalmente Niente Ai fini della trama E ha scritto questo Fifty Shades of Non mi ricordo come si chiama In inglese Il secondo Il primer of grey In italiano Il secondo È diventato 50 sfumature di nero Poi ci sarà il terzo Perché ovviamente Non c'è due senza tre E spero che il quattro Non venga da sé Perché se no Viene da sé Che io le vado A sparare in bocca Questa qua Che si chiama 50 sfumature di rosso Credo Non lo so Una roba del genere Se non mi ricordo male 50 sfumature di nero È il secondo Come vi ho detto È epico 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 50 sfumature di grigio Raccontava di questa Verginella Anastasia Steele Quella che si chiama Anna Steele Per chi non l'avesse colto Nel video precedente Steele in inglese Vuol dire acciaio Fatevi voi un po' I vostri calcoli mentali Questa Demente Patentata Che poi sarebbe bella Di Twilight Perché è uguale Spiccicata identica Non venitemi a dire di no Perché è invece sì Punto Non perché lo dico io Ma perché basta leggerlo Quel libro Per come dire Fare questo collegamento Si innamorava Di questo tipo Che si chiama Christian Grey Che fondamentalmente Non fa un cazzo Perché io non ho ancora capito Che lavoro fa Secondo libro Dopo 1400 pagine Che guadagna Un pacco di soldi Che ha 27 anni Che è alto Bello Biondo Con gli occhi azzurri Il culo che fa le magie Sempre lui Qui è ancora più alto Più biondo Più culo che fa le magie Una cosa stratosfericamente Meravigliosa E loro due Si mettevano insieme Lui aveva questo problema Che gli piaceva il Sado Che poi in realtà Sado non era E voleva lei Come sottomessa Però in realtà Cioè lui gli diceva Non far questo 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 Quest'altro E però invece Poi le faceva far tutto Per cui non ho capito Fondamentalmente Perché ha messo dei paletti Vabbè Non dico dove il paletto Sarebbe meglio Che se lo mette Perché diventa scurile Succede che alla fine Di quel romanzo Loro due si lasciavano Cioè lei lasciava lui Per delle cinghiate sul culo Vabbè Non stiamo a riprendere il discorso Morale della favola Il libro inizia con lei Che è lì Che sta vomitando Dalla disperazione Stava strappandosi i capelli E via dicendo Che vabbè Sì posso capirlo Perché insomma Tutte noi siamo state mollate O abbiamo mollato Nella nostra vita E tutte noi siamo state male Comunque Perché Lei in teoria dovrebbe anche lavorare E lei questi cinque giorni Tenetevi la mente Questa cosa Mi viene già da ridere Perché è epica Tenetevi la mente Lei in questi cinque giorni Non mangia Cioè mangia tipo uno yogurt Tenetelo lì Dopo cinque giorni Che questi due non si vedono Non si parlano No in realtà Lui le manda dei fiori Scusate Lei dice No ma tanto sarà stata la segretaria Non lui E si dispera un'altra volta Li piange un'altra volta Lei deve andare A mostra di José Che sarebbe sempre Jack E praticamente lui le dice Ti vengo a prendere Ma perché scusami Perché lei non ha più la macchina Cioè lei per notarsi un aereo E andarci per i cazzi su No c'è bisogno proprio Che lui venga a prendere La porta in elicottero Non so perché Ma tant'è È così Poi ci chiediamo Perché lei si sente un po' Mignotta No vabbè Fatti delle domande È morale Dopo dieci pagine Questi due qua Sono già tornati insieme E Attenzione Lei sale in macchina Lui non è che le dice Ciao Ana O vabbè Anastasia O quel che è Lei sale in macchina La guarda Le fa Anastasia Quanto tempo è che non mangi Perché Perché devi obbligare A mangiare Questa povera cristiana Cioè vi giuro L'avrà detto Ottocento volte Ma io le avrei volute contare Solo che non ne avevo la forza Tutte le volte che le dice Mangia Cioè ma neanche I bambini di due anni Capito Ma neanche a me E mia madre Continua a rompermi I coglioni così Vabbè che io Non sono uno stecchino Però Non è che non Continua Mangia 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 Continua a mangia Hai mangiato Da quanto tempo è che non mangi E vacca Cioè io l'avrei Vi giuro Io l'avrei ucciso Uno che continuava a farmi Una cosa del genere Lei invece Tranquilla Prima fa un po' la scocciata No Dopo due righe Lei dice Veramente devi inire discorso Ridiglielo anche No Così questo qua sarà contento E lui ovviamente Le risponde una roba Tipo Ti prenderei a sculacciate No 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 Non ci siamo Ha detto questo Ovviamente Questi qui Picci picci Si rimettono insieme E Praticamente Per tutto il libro Non fanno che Scopare Fondamentalmente Fanno quello Non c'è una trama Ve lo giuro Non esiste una trama In questo libro Nel senso che Si a un certo punto Cioè Lei si trova davanti Questa tipa Che non mi ricordo Quale cazzo si chiama Leila Una roba del genere Che si scopre Essere una ex Sottomessa di Christian Ah io vi spoiler La manetta E sappiatelo Per cui se non volete Sapere cosa succede Non guardate la recensione E forse dovevo dirlo prima Ma si ma Un video del cavolo Su ragazzi Portate pazienza Non è una recensione Molto seria Tant'è Succede che C'è questa tipa Che praticamente Si è tagliata le vene Perché era un'ex Sottomessa E non poteva resistere Non essere più Una sottomessa di Christian E anche lei Voleva qualcosa di più Ma Christian Non gliela ha voluto dare Quel qualcosa di più Vi pregherei di non Come dire Pensare a cose scurrime In questo caso Non è quel qualcosa di più Che è Ma Voleva amore E lui non gliela ha dato L'amore Gli ha dato qualcos'altro Ma quello è un altro discorso Compare anche la Celebernima Mrs. Robinson Che in realtà si chiama Elena qualcosa Che praticamente Era la tipa Che aveva insegnato Questo tipo di rapporto Sado-masochista A Christian No? Quella avezza È la signora un po' di una certa età Quella che Anastasia Che vuole fare la figa La chiama Lei pedofila Stronza Figlia di Come si è permessa A fare una cosa del genere Al mio Christian E così Via dicendo Cioè voglio dire Il tuo Christian Poteva evitare Di continuare Ad avere rapporti Con questa Rapporti professionali Nel senso che Ci lavora insieme Con questa tipa Vabbè Non è normale Per cui Oltre a questi due Diciamo Personaggi Che seminano Un po' di zizzania Tra questi due Che in realtà Più si incazzano Più si infoliano E più trombano Per cui Si perde un po' Questa cosa Non succede fondamentalmente Niente Se non Queste scene Piene di epicità Tipo Quella che Come vi ho già detto Lei entra in macchina E lui dice Hai mangiato Come prima cosa Neanche ciao E poi c'è Una cosa fondamentale Del carattere di Anastasia Che io vorrei farvi notare Cioè Lei è schizofrenica Soffro di disturbo bipolare Non lo so Che sere Tu che sei psicologa Spiegami Cioè Vieni mi incontro a questa cosa Lei nel libro precedente Ha mollato lui Perché lui le ha dato Delle cinghiate sul culo Quando lei aveva chiesto Fammi sentire Il dolore massimo Che posso provare Che tu pensavi Che non so Tira fuori un coltello E ti taglia No no Le ha dato due Tre cinghiate sul culo E via E lei si era incavolata L'aveva mollato Ora Lei in tutto questo romanzo Non vede l'ora Di farsi prendere A scudisciate sul culo Perché Cioè Tu l'hai mollato Per delle cinghiate E questa tutto il tempo No Lei è un'infoiata Che non vede l'ora Di andare nella stanza rossa A farsene suonare E tutte le volte E gli pianta Letteralmente Il culo in faccia Per farlo arrabbiare Per farlo eccitare E così pensa Ma adesso mi prendi a sculacciate Ma non sei normale allora Cioè Hai dei problemi mentali seri Anastasia Perché Cioè Lo molli Poi Vuoi fare ancora quelle cose E lui non vuole La cosa etica è questa Perché lui dice No Tra innamorati Queste cose non si fanno Ma fa un culo Ma ti pare Perché ovviamente Loro due hanno questa In teoria La safe world No Nel momento in cui Lui fa sesso Un po' forte Che poi in realtà Non c'è mai Sesso forte Ma quello è un altro discorso C'è questa parola di sicurezza Che lei dovrebbe dire Per farlo smettere No E lui invece dice No Basta che mi dici basta Cioè Epica Epica Questa cosa è epica Lei si trasforma In una ninfoma Né peggio che nel libro precedente Lui si trasforma In un cagnolino Pianucoloso Zerbino Vi giuro È una cosa Aghiacciante Cioè Io Un uomo del genere Te ne puoi anche andare Veramente Fuori da quella porta Perché non ti voglio mai più Nel primo libro Lui era quello che fotteva Senza pietà Perché lui non faceva l'amore Lui fotteva senza pietà E in questo libro Invece È sempre attaccato Alla gamba di lei Piangente No Anastasia Non mi mollare Ti prego Tu veramente vuoi un uomo del genere Anastasia Cioè Ti rendi conto Questo ha bisogno di una madre Capito Non di una fidanzata Ha bisogno di uno psichiatra Ma di uno bravo No Ma veramente bravo Cioè Capito Lobotomia Qua siamo tornati veramente Agli anni settanta Ma scherziamo Oltre a farle queste sceneggiate Finalmente si scopre Qual è il grande trauma Perché io mi aspettavo Capito Un trauma di quelli Cioè Potenti Roba serie Questa invece Io mi immagino La tipa Sta James Che è andata a prendersi Il manualetto Di psicologia For dummies No Quelli per balenghi Per ignorantoni E Così L'avrà sfogliato E si sarà inventato Quattro cazzate Spoiler Lui Cerca le tipiche Con i capelli castani Perché assomigliano A sua madre Perché sua madre Era una drogata Che si portava In magnaccia a casa Che menavano Christian Per cui Lui sente il bisogno Di menare Queste persone Queste donne Cioè È una delle cose Più coglione Idiote Che ho mai letto In vita mia Cioè ma Veramente Questo non è traumatizzato Questo è un pirla Perché Cioè non venite a dirmi Poverino Perché era piccolo E stato traumatizzato E stato picchiato Gli spegnevano le cicche Addosso Per carità Può essere anche un trauma Ma non ti giustifica Comportati da coglione Che poi Intanto lui non è Che ha questi problemi Capito Di picchiare le donne Cioè non lo so Ma è veramente una cosa Talmente cretina Ma io mi immagino Le stuole di donne Che si leggono il romanzo Dicono Oddio poverina Ha soltanto bisogno Di un abbraccio No ha bisogno di cinghiate Ha bisogno Ha bisogno di schiaffi Ha bisogno che qualcuno Lo prende E gli dica Ripigliati Ne ha preso abbastanza Comunque da piccolo Questo qua Nel senso che Forse dovrà andargli Un po' di più Veniamo ai momenti Più epicness Cioè quelli che veramente Toccano delle vette Disumane Leila come vi ho detto Era questa ex Che minaccia loro di morte Ogni tanto Li si imbosca anche in casa Però in realtà Non fa mai del mai a nessuno Anche se c'ha il porto d'armi Che Dico Leila Ma potevi sfruttare un pochino Di meglio con la pistola E sparare in faccia Tutte e due Lei entra in casa Minaccia di morte Così In realtà Poi non succede niente E lui che cosa fa? Le fa il bagno Avete capito bene Lui le fa il bagno Eh ma poverina Era sporca C'è uno stuolo di barboni Sotto casa Che sono sporchi Io Cristian Andrei a prendere anche quelli Fossi in te No lavali tutti Non so Raccatta su anche tutti i randaggi Che ci sono E spulciali Fa te Una ti minaccia di morte E minaccia di morte La tua finanzata La donna che ami Che vuoi sposare Questa ti entra in casa Siccome è un po' lercia Ciao Andiamo a farci un bagno Va Via Ma No Questo forse dovrebbe Mostrarci la sensibilità Di Cristian A me pare un gran coglione Invece Però Io potrei avere Un'opinione distorta Di quest'uomo Momento 2 Di Epicness Questi non lavorano mai E continuano a scambiarsi I mail Su Blackberry Lui le dice Siccome le mail Diciamo Sono di un contenuto Un pochino Zuzzino E tra l'altro Che due coglioni 20 pagine di mail Di questi due Che si dicono Porcherie E vabbè Lui le dice Forse è meglio Che usi i Blackberry Non usi la mail Dell'ufficio Invece lei usa La mail dell'ufficio Poi il capo Le vede le mail Perché vabbè Sai Se una la vedi sempre lì A tic tacare In mail E al posto di lavorare Gli dice No io pensavo Fossi una che lavorava E non che ti scambiassi Queste mail Solo col tuo fidanzato Che in quel momento Io ho pensato Ma il tuo capo Non è idiota Perché effettivamente Questa Non ha rapporti con nessuno Cioè non ha amici Passa tutto il suo tempo Col fidanzato Ma non è una cosa sana Questa da fare Invece lei fa così E si lamenta Perché il capo Le dice Non lavori Sì ok Il capo a un certo punto Le fa anche delle profferte sessuali Sì perché Lei ha una carica sessuale potente In questo libro Tutti quelli che incrocia Se la sbatterebbero contro il muro Vabbè Cioè Siamo passati da Cessa disumana Vergine Che nessuno si sarebbe mai scopato A capito cicciolina Più o meno Epicness Proprio di quelle Che raggiungono Livelli Che veramente Voi non potete capire Allora Seguite Questo piccolo Albero Genologico Familiare Barra Non so che cosa sto dicendo Christian Chiede Stavo dicendo Bella Anastasia Ci troviamo di fronte La famiglia del mulino bianco Allora Allora in realtà Non è soltanto una fantasia Quelli che si alzano al mattino Tutti contenti E fanno la colazione Con i biscotti Le fette biscottate E magari anche La gallina rosita Oh mio dio Io voglio leggere il terzo libro Perché vi prego Io spero che facciano Un matrimonio Tutti assieme Ma che figata Ma ve lo immaginate Ma è una delle cose Più epiche Che si possano immaginare Poi vanno tutti Nella stanza rossa E fanno sesso di massa I quali scena di sesso Sono veramente pessimi Io le ho saltate dopo un po' Perché mi rompevi i coglioni Perché tanto E' tutto uguale Nel senso che Lui arriva La spoglia Le fa un servizetto Le morde un po' i capezzoli Viene Viene un'altra volta E poi se la bomba Momento di epicness Lui Finisce i preservativi Cioè se Christian Finisce i preservativi Noi siamo spacciati Voglio dire Cioè Christian Che finisce i preservativi E' una cosa Talmente assurda E' come Non lo so Cioè non trovo neanche Un paragone Non trovo un paragone Non ce la posso fare Cioè è una cosa Totalmente fuori dal mondo E' talmente assurda Che non riesco a pensare A un paragone Che sia così assurdo Devo aggiungere altro? No Mi sembra di avervi raccontato Tutto di questo libro E' scritto Se possibile Ancora peggio Del libro precedente Ci sono appunto Questi cinque momenti Io non li ho contati Epici Che sono Hai mangiato Le mail col blackberry Perché lei è normale Non le scrive le porcate Col computer dell'ufficio Vabbè Mulino bianco Lui che finisce Preservativi Che ancora Io sono ancora Stranita Da questa cosa E Queste Come dire Due personaggi Che si frappongono Fra loro due Cioè basta Il libro Sono 700 pagine E Non succede niente La vedete di conto A parte questi due Che trombano E trombano E trombano Ah lui che diventa Zerbino Sì Lei che è schizofrenica Che vuole essere picchiata Riesce a farle Cioè lui La convince a fare Il sesso anale Che poi non fa Il sesso anale Perché lei infila Un mignolo Lì Quello non è Esattamente sesso anale Però lei si intrippa Per i divaricatori anali Cioè lei che Quando ho scoperto Cos'era il feasting È praticamente svenuta Si intrippa adesso Per i divaricatori E per le palline Quelle da mettere Nell'anno Ve l'ho detto Questa fa un passaggio Da Capito La Vergine Maria A Eva Enger È possibile peggio Perché adesso Non me ne vengono in mente Altro Cioè capito In confronto Le pornodive Sono veramente Educande Ragazzi Leggete questo libro Vi prego Leggetelo Recensitemelo Ditemi cosa ne pensate Chi di voi è psicologo Mi spieghi Quali problemi ha Christian A parte essere Un emerito Pirla E Io voglio il terzo Devo leggere il terzo Perché per me Tocca avete ancora più Alte di questo Io vi saluto E vado a leggere Dei libri un po' più Intelligenti magari Che sarebbe il caso Ciao ragazzi Beh no Sì sì Forse Forse devo smettere Di leggere Te cazzate Forse sì Grazie a tutti